Simone del Maestre Simone del Maestre Simone del Maestre Simone del Maestre gli abbiamo messi là tutto il secondo tempo, anzi secondo me avevano paura di poterla perdere. Se non avessero fatto subito il 2-1 secondo me sarebbe finita in maniera diversa. L'esultanza di Zoratti come se fosse una vittoria al fischio finale è una risposta a tutti i vari commenti possibili su questa partita. Lo so che non ce lo dirai ma ti chiederai un giudizio così spassionato sul direttore di gara che almeno in tribuna e in curva ha lasciato molto molto perplessi. Guarda, sbagliano tutti, io posso solo dire che negli ultimi 5 minuti ho visto la maglia di Franciosi essere tirata per almeno 10-15 secondi a Tonizzo e a casa mia è giallo, poi non so da dove arrivi lui. Insomma è anche a casa mia, però vabbè a questo punto possiamo eleggerti come avvocato difensore perché sei abbastanza benevolo sull'operato di Donda questa sera. Eh bom, come ho già detto prima sbagliamo noi in campo, sbaglia l'arbitro, sbagliano tutti dai, non gli diamo una colpa per il pareggio di sicuro. Ora ultimissima battuta a Tolmezzo, la prima vera trasferta del campionato perché il derby con San Luigi qui praticamente non faceva testo, senza Piscopo con due giovani diffidati. Insomma iniziano ad esserci delle prime defezioni, vedremo di che pasta sarà fatta l'unione anche lontana da questo meraviglioso stadio. Beh abbiamo un organico che può tranquillamente superire all'assenza di Luca o di chi che sia, c'è Marco Sessi in panchina con attaccante che è un difensore di grandissima esperienza a valore, c'è Potenza che ha già qualche minuto nelle gambe e non ho nessuna preoccupazione. Beh comunque il sogno di tenere i guanti immacolati fino a fine campionato è svanito, ma Simone Del Mestre sembra comunque abbastanza soddisfatto. Dio, si fa quello che si può, meglio non prenderne però prima o poi arrivano. Erano forti anche oggi davanti eh? Sicuramente, sicuramente. Sicuramente è una delle tre squadre più forti del campionato. Direi che può bastare così, ci hai fatto anche una griglia di quelle che possono essere le decisive, hai fatto il massimo che potevi anche fuori dal campo, quindi grazie. Ciao, buonasera. Grazie.